Ciao e bentornato a una nuova puntata del live delle Safety Rockstar qui su Rock and Safe cerchiamo manager, imprenditori che ci diano spunti su come si può gestire in modo etico la propria azienda ottenendo da un lato un business sempre migliore e dall'altro prendendosi cura di tutta la popolazione lavorativa e noi andiamo a sondare sul territorio italiano quelli che sono veramente i pionieri verso nuove visioni che possono andarsi ad amalgamare a quello che già facciamo per veramente evolvere e non rivoluzionare il nostro modo di lavorare beh in questa indagine un carissimo amico l'HSE di WeBuild Michele Rovida mi ha segnalato un'iniziativa splendida fatta da un imprenditore che poi documentandomi è veramente un fiore all'occhiello per noi in Italia e quindi non aggiungo altro perché oggi parleremo con Danilo Dada Buongiorno Stefano buongiorno a tutti ciao Danilo grazie di essere qui benissimo innanzitutto te sei amministratore delegato di? io sono amministratore delegato della Valoncini S.p.a che è un'impresa edile di Bergamo bene fra l'altro un'edilizia molto rivolta voi fate costruzioni a secco giusto? noi siamo specialisti della tecnica costruttiva a secco sì conferma bene bene quindi già un'organizzazione che è molto orientata a quello che è il presente ma anche il futuro beh noi ci siamo intercettati e partiamo da lì da un'iniziativa comunque insolita di sicuro unica in Italia parlacene un attimo ma immagino tu ti riferisca all'iniziativa della lettura del libro il book club dei muratori come l'hanno chiamato alcuni alcuni giornalisti beh per la verità è un'iniziativa che pensavo fosse normale poi evidentemente proprio così normale non è visto tutto quello che è successo attorno sai come è nata io innanzitutto devo ringraziare mia madre che da quando ero piccolo mi ha insegnato a leggere ad appassionarmi alla lettura io la vedevo leggere sul tavolo della cucina durante la notte quando ero bimbo e ho imparato da lei la passione della lettura e mi è rimasta così per tutta la vita poi a un certo punto però sai io sono un po' pigro sono alle prese con la mancanza di tempo e quindi ho pensato come faccio a delegare anche la lettura come faccio a far leggere i libri agli altri sto scherzando un po' però è nata un po' così ho detto guardate ragazzi ai miei collaboratori meravigliosi che ho ho lanciato questa idea siccome noi abbiamo delle riunioni di coordinamento commerciale e tecnica per coordinare questa meravigliosa squadra che ho l'onore di rappresentare ho detto ma in queste riunioni perché noi non ci prendiamo un'ora della riunione e facciamo che uno di noi presenta il libro che ha letto io ho fatto un elenco di 60 titoli libri di management prevalentemente e ho lanciato quest'idea dai 60 titoli ognuno si sceglie il suo e lo presenta ai collaboratori è partita una roba spaziale perché ci sono buttati a pesce subito alcuni collaboratori io prendo questo io prendo questo si sono fissate le date ma l'iniziativa si è allargata anche perché qualche collaboratore ha detto ma senti perché io ho letto un bellissimo libro che mi ha appassionato posso presentare quello avanti e così è venuta fuori questa iniziativa meravigliosa perché sai Stefano la cosa fighissima è che ci rendiamo conto che tu leggi un libro il tuo collega lo legge anche lui ma te lo riesce a cogliere delle sfumature dei particolari che a te erano scappati e te lo racconta con le sue emozioni bellissimo bellissimo e è stata un'iniziativa che si è diffusa macchia d'olio e non solo insomma sui su tutte la tua organizzazione quindi che lavora in ufficio agli operativi sul campo dei vostri cantieri giusto? assolutamente trasversale sì e questa è la bella cosa perché sono venuti fuori informazioni meravigliose qualcuno legge 30 35 50 libri all'anno e qualcuno mi ha detto guarda io sono tanti anni che non leggo e grazie a questa iniziativa ho ripreso in mano il libro è questa la parte fantastica della tua iniziativa e quindi poi diffondere diffondere cultura e non solo immagino serva anche in logica team building di unione del team è veramente veramente bella complimenti grazie naturalmente questa è l'ultima iniziativa di un'organizzazione che comunque è sempre attenta al suo team giusto? sì guarda per quanto mi riguarda faccio il possibile affinché le persone stiano veramente bene qua dentro il nostro obiettivo è creare situazioni di benessere non solo perché costruiamo case a basso consumo di energia isolate acusticamente antisismiche e quindi benessere per tutti coloro che comprano i nostri prodotti i nostri servizi ma benessere anche per tutti coloro che hanno il piacere di entrare in contatto con noi in particolare i nostri collaboratori per me la cosa importante è che ognuno di noi si senta veramente bene perché lavorare è già faticoso di suo se lavori con le persone che ti piacciono che ti fanno star bene fai quello che ti appassiona è scusate posso dirlo è una figata pazzesca è la verità noi diciamo sempre che se riusciamo a creare quelle condizioni per cui la persona che si sveglia la mattina è felice di andare al lavoro perché ha dei colleghi che magari alcuni si diventano anche amici e comunque c'è un equilibrio nel gestire le relazioni è ben altra cosa rispetto a quelle organizzazioni che si disinteressano totalmente di questi aspetti quindi sono d'accordo ognuno di noi dovrebbe svegliare la sveglia la mattina esatto per andare a fare quello che gli piace e questo poi anche a livello imprenditolare comunque restituisce un qualche cosa oltre all'essere soddisfatto di aver creato un ambiente del genere giusto? ma sì guarda vedi le persone lavorano meglio beh lavorano assolutamente meglio sono più produttive ma soprattutto quello che conta è che quando una persona entra in un'organizzazione dovrebbe iniziare il suo percorso di crescita non solo professionale anche umana io lo dico sempre ai miei collaboratori ragazzi se voi siete arrivati qui dieci anni fa cinque anni fa tre anni fa qualcuno trent'anni fa ecco non dovreste più essere la stessa persona di quando siete entrati ma una persona migliore da tutti i punti di vista perché un'azienda non ti deve dare solo gli stipendi o il salario ti deve dare crescita professionale crescita umana possibilità di fare esperienze formazione ovviamente perché attraverso la formazione che la persona cresce e questo è il grande valore sociale delle imprese a mio avviso incredibile perché sono tutte parole che condivido alla lettera e che proprio qui su Rock and Safe cerchiamo di promuovere anche nella mia organizzazione dico sempre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno dobbiamo essere evoluti in qualche cosa altrimenti stiamo stagnando e c'è qualcosa che non va ma principalmente a livello personale perché poi la crescita è un bene partendo a livello personale per poi parlare del progresso dell'azienda stessa e immagino dato il settore dell'edilizia dato un approccio etico così al rapporto nel personale la salute e la sicurezza delle tue persone sia un aspetto fondamentale Sì lo è guarda Stefano al di là del discorso infortuni che è la cosa peggiore che possa mai capitare nella vita di una persona e di un'azienda e quindi scongiuriamo con tutte le nostre forze proprio la salute e il benessere per me sono importanti tanto è vero che noi come azienda Valoncini aderiamo al prodotto al programma VHP dell'ATS di Bergamo VHP è l'acronimo che significa luogo di lavoro che promuove la salute e il benessere dei collaboratori sono già cinque anni che lo adottiamo e quindi ci interessiamo proprio al benessere a 360 gradi dei nostri collaboratori tant'è che ci sono diverse iniziative facciamo yoga in azienda ci divertiamo insieme c'è un particolare programma per la lotta al fumo l'abuso cerchiamo di mettere in pista grazie al nostro medico competente dei programmi che favoriscano proprio il benessere della persona c'è gente qui che è dimagrita 15 chili che ha adottato uno stile di vita decisamente molto più sano rispetto a quello che aveva prima e insomma tanta roba molto bello tanta roba ma ecco immagino che andrete anche in qualche modo a misurare il sentiment dei vostri laboratori come reagisce un laboratore quando l'azienda è così attenta nelle varie sfaccettature del benessere guarda io vedo che c'è un'adesione veramente grande e il metro di misurazione me lo dice me lo dice prima di tutto quante candidature riceviamo noi al mese ed è una roba incredibile negli ultimi mesi stiamo ricevendo la media di 550 600 candidature al mese me lo dice il fatto che a questa partecipazione attiva relativa al benessere non partecipano solo i collaboratori ma anche i familiari quando facevamo yoga in azienda alle sedute di yoga venivano più mogli e fidanzate che i collaboratori diretti o fidanzati quindi c'è una partecipazione allargata anche il discorso del book club e ci sono alcune mogli o mariti che vorrebbero venire a presentare anche loro il libro o figlioli dei collaboratori che dicono al papà oh papà adesso cominci a darmi 5 euro anche a me ogni libro che leggo quindi vedo che l'azienda contamina le famiglie e quindi questa è una cosa bellissima l'azienda che infonde uno stile di vita ovviamente impattando sui propri collaboratori ma di riflesso anche sulle famiglie e questo pensiamo se fossero sempre di più le aziende a fare in questo modo quanto benessere diffonderemo nella società veramente direi quasi commovente perché è lo spirito che tutti abbiamo la possibilità di fare perché poi in base a quelle che sono le possibilità si possono fare anche cose semplici senza per forza impattare sui budget e via via però vedere questo riscontro è bellissimo tanto è che poi vi vengono a bussare alla porta in tanti e quindi evidentemente Nazione è un'azienda che genera tanta attrattiva proprio per come si vive sì confermo guarda io anche per questo che sono grato al mondo SM ai miei amici consulenti che mi hanno sbloccato su alcuni punti io non sono mica sempre stato così io ho un caratteraccio cattivo ne ho fatte di tutti i colori e grazie proprio alla tecnologia OSM alle persone meravigliose che ho incontrato ho capito che stavo facendo alcuni errori ero bloccato su alcune posizioni mi sono sbloccato lì e è venuto fuori un'altra persona o comunque una persona migliore e che ha oggi l'obiettivo importantissimo di far crescere i collaboratori far vivere a loro la storia bellissima che ho vissuto io io sono stato assunto da una società e ho avuto la possibilità di diventarne uno dei proprietari sono direttore generale mi sto divertendo un sacco e mi piacerebbe vedere i giovani che ci sono qui vivere le stesse bellissime partite stesse partito dipendente dell'organizzazione sì sono stato assunto 34 anni fa come tecnico e dopo nove anni sono diventato uno dei soci amministratore delegato e mi sto divertendo veramente tanto bellissima parabola e soprattutto il messaggio che ci dai è che se vogliamo fare un cambiamento i primi a dover evolvere e cambiare dobbiamo essere noi stessi con la tua esperienza che hai avuto OSM perché è questo mettersi in gioco per alzare l'asticella prima di andare a profetizzare messaggi facendo anche un po' di errori nelle organizzazioni bellissimo dovresti fare scuola lo fai insomma già come consulente per tanti imprenditori perché poi ma non è la responsabilità secondo me del singolo imprenditore è che a volte non si sanno nemmeno le tante strade che si possono aprire quando cominci a avviare dei processi come te hai vissuto e stai portando avanti da tempo vero sono venuto qualche settimana fa a Firenze a fare uno speech in MBS ci saranno anche altre occasioni vedrai allora in quell'occasione così se io salirò a Bergamo sarà un piacere vederci vediamo se queste regole via via o meglio se la pandemia prima o poi ce la lasceremo alle spalle quindi incontrarci sarà un piacere e confrontarsi seguite Danilo Dada e la Vannoncini perché veramente sono un grande esempio di come si può veramente generare quel business io lo chiamo ecologico cioè nel nostro ecosistema dalle api ai fiori alle piante all'ossigeno risperimentale tutto è in equilibrio e questo da un lato genera business e dall'altro comunque tutte le persone tornano sane sicure a casa e anzi tornano con il sorriso il giorno dopo a lavorare è un qualcosa di meraviglioso e Danilo ci dimostra che è ben possibile Danilo ti ringrazio davvero grazie Stefano grazie a te grazie a tutti voi a tua redazione splendide collaboratrici simpaticissime grazie grazie a tutti coloro che stanno ascoltando bene ci vediamo alla prima occasione che ci capiterà a Bergamo a Firenze a presto grazie ciao ciao grazie ciao Danilo Dadda e la Vannoncina dimostrano veramente che quella via che noi con Rock'n'Safe divulghiamo attraverso le tante eccellenze che abbiamo è possibile è possibile e l'investimento che viene fatto oltre a farci tornare a casa essere grati anche del lavoro onorare il ruolo che noi svolgiamo in azienda ci dà come come bene prezioso innanzitutto il sorriso delle persone che lavorano con noi e non solo un grande legame come dimostrano i tanti curriculum che poi arrivano alla Vannoncina beh mi è dispiaciuto finire questa intervista perché l'avrei fatta continuare per una bella ora però avete sentito Danilo Dadda lo possiamo provare nei suoi speech qua e là in Italia e quindi vi invito veramente a seguirlo così come vi invito a seguire Rock'n'Safe be safe be rock rock'n'Safe rock'n'safe